Cari amici di Sanremo, so che voi siete sempre contenti perché avete la fortuna di abitare in una bellissima città che si protente su un mare bellissimo, circondati da una natura stupenda, ma io credo che avrete la possibilità di essere ancora più contenti con un cambio deciso della vostra amministrazione. Mi hanno presentato diversi candidati e tra questi candidati ne ho visto uno veramente bravo, il nostro candidato di Forza Italia del centrodestra, che voi conoscete bene, che è Tommasini, ha un'esperienza rilevante come manager nelle società, nelle imprese in cui ha lavorato. Porterà questa sua esperienza organizzativa e decisionale nella amministrazione del vostro comune e quindi Sanremo vi apparirà ancora più funzionale, ancora più viva per quanto riguarda anche quello che ha sempre avuto di dinamismo pari ai centri delle grandi, grandissime città e anche in situazioni personali difficili come chi anziano abita da solo, come le famiglie che devono curare un disabile, come i bambini che vanno a scuola e devono essere seguiti in tutto e per tutto, credo che darà un impulso straordinariamente positivo alla qualità della vostra vita. Quindi votando Tommasini, votando Forza Italia, votando il centrodestra, voi penserete soprattutto ai vostri interessi, a quelli della vostra famiglia, dei vostri figli, della vostra meravigliosa città e c'è anche da votare per le elezioni europee, dove noi ci presentiamo come Forza Italia, convinti che Forza Italia possa andare in Europa e mandare il sottoscritto a rappresentare in Europa e a difendere gli interessi dell'Italia e a far cambiare in Europa anche molte cose dell'attuale politica che possano far piacere l'Europa di più ai cittadini europei. Per quanto riguarda il voto di domenica c'è anche un'altra missione che ci siamo dati, è quella di avere un buon successo noi che contro un insuccesso che prevediamo sicuro dei 5 Stelle che hanno dimostrato di essere come i comunisti del secolo scorso e anche di essere sospinti dalla invidia sociale e di non sapere nulla di amministrazione pubblica, noi pensiamo che votando Forza Italia si potrà dare vita anche a un nuovo governo nazionale di cui Forza Italia potrà essere il cervello, la spina dorsale, perché ricordatevelo sempre noi, azzurri di Forza Italia, siamo il vero presidio della democrazia, della libertà, dei valori occidentali, dei valori cristiani e liberali nel nostro Paese. Un abbraccio a tutti, buona fortuna per il tempo che arriverà e mi raccomando votate nel vostro interesse.